Se è vero che a Natale siamo tutti più buoni, a Pasqua ci si sente tutti più spirituali. La riprova la si è avuta questa mattina, la tradizionale processione dell'Addolorata che alle 4 del mattino lascia il Duomo di Teramo e si snoda nelle vie del centro storico cittadino, visitando le sette chiese. La partecipazione popolare, sempre numerosa per la verità, quest'anno ha forse toccato i massimi storici. Migliaia di persone si sono accodati alla statua della Madonna addolorata che cerca il figlio e con grande partecipazione hanno rinverdito una tradizione che va avanti dal XIII secolo. La cosa ha colpito anche il vescovo di Teramo, Michele Seccia, che più volte nei giorni scorsi, ma verrebbe da dire anche negli anni scorsi, aveva richiamato i fedeli ad una maggiore partecipazione e spiritualità, mettendo da parte tutto quello che è profano per lasciare spazio al sacro. Lo hanno accontentato e lui queste cose le ha notate. Se aumenta, come abbiamo visto questa mattina, la risposta popolare a questi momenti, c'è da augurarsi che non sia una risposta emotiva, occasionale, sentimentale. Non ci sono spettatori, ci sono partecipanti, questo è molto diverso. Stessa situazione anche ieri sera a Lanciano, dove la processione del Cireneo Scalzo ha avuto la solita numerosa partecipazione di fedeli, che alla luce delle fiaccole hanno intonato i canti medievali e pregato. Sarà forse il segno dei tempi, delle difficoltà economiche e di una situazione internazionale dove tutti i cristiani si sentono un po' sottotiro. Fatto sta che la ritrovata spiritualità non fa male, anzi, aiuta ad avere un briciolo di speranza in più. D'altra parte, la strada della salvezza passa attraverso la sofferenza e lo spirito del cristianesimo, visto soprattutto attraverso quella croce che è sempre più il simbolo della salvezza e della libertà.